bentornati a lampi di tesla stasera cominciamo con l'aggiornamento per l'app tesla quantomeno per ios e quindi per tutti quelli che hanno apple alla versione 4.13.0 non ci sono release note particolari c'è solo scritto bug fix però sappiamo che ogni tanto tesla aggiorna l'app senza dire quali sono le novità poi magari esce un aggiornamento dell'auto che aggiunge delle novità all'app quindi per ora scaricate la e io l'ho già scaricata ma ripeto non ho trovato novità particolari e aspettiamo eventualmente gli aggiornamenti dell'auto che potrebbero aggiungere qualcosa anche all'app una comunicazione di servizio grazie a giuseppe che mi ha mandato una mail se state comprando un'auto con il finanziamento sappiate che c'è una clausola che vi permette di riavere i 250 euro di caparra o di ordine come vogliamo chiamarlo nel caso in cui il finanziamento non venisse approvato per vari motivi quindi comunque se insomma non per colpa vostra e finanziamento non viene approvato avrete indietro i vostri 250 euro quindi una cosa positiva secondo me e ora andiamo in cina per due notizie interessanti la prima ovviamente sapete che ci avviamo verso la fine del trimestre e a fine trimestre tutte le auto prodotte in cina rimangono in cina cioè vengono vendute in loco perché ovviamente vengono prodotte subito vendute così non c'è il tempo d'attesa della nave per l'esportazione oltre a questo proprio per dare una spinta ulteriore all'acquisto entro il 30 settembre tesla garantisce uno sconto di circa 1200 euro il paritetico degli 8 mila guan cinesi per chi appunto ritira l'auto dal 16 al 30 settembre io per settembre mi aspetto grossi grossi numeri ne abbiamo già parlato tra i 90 mila e i 100 mila mica male rimaniamo sempre in cina perché tesla sta un po' virando rispetto alla scelta degli store quindi di dove effettivamente si può andare a vedere a toccare con mano la macchina sappiamo che anche in europa in italia ma anche negli stati uniti tesla alcuni centri dove c'è il service e tutto il resto che sono anche un po fuori città magari in zone industriali per esempio in italia mi viene in mente peschiera borromeo e padova ma ci sono anche altre realtà dove tesla prende magari un paio di vetrine in un grosso centro commerciale oppure in centro città per esempio in gaia olenti a milano ora in cina io penso lo stia facendo a livello sperimentale sta chiudendo gli store appunto nei grossi centri commerciali che comunque hanno degli affitti particolarmente costosi e si sta concentrando invece in centri molto più grossi ma un po più fuori città questo probabilmente gli permette di rendere ancora più efficiente proprio le spese di tutta la parte vendita che comunque ben sappiamo che per il 95 per cento avviene online quindi è una scelta condivisibile io personalmente sono per una struttura che mantiene i service e chiude praticamente completamente gli store fisici ma che implementa invece una sorta di store mobile quindi eventi in giro per il territorio questo è la mia personale visione di come tesla dovrebbe muoversi da qui in futuro torniamo sulla notizia di ieri dove abbiamo detto che secondo voci non ci sarebbero state le 46 80 prodotte a berlino arriva un ulteriore smentita direttamente da tesla che dice addirittura il contrario cioè che tesla sta accelerando il più possibile la produzione di 46 80 sia a berlino che a ostin quindi a maggior ragione occhio a quello che leggete in giro soprattutto su twitter e per concludere vi ricordo che ci vediamo a bologna al tesla revolution conferenza nazionale organizzata dal tesla club italy per chi vuole venire parliamo ovviamente di sabato quindi io sto registrando venerdì sera ma probabilmente lo vedrete sabato mattina il video quindi per chi vuole venire anche se non avete il il biglietto il parcheggio di fico a bologna è aperto quindi se volete farvi un giro ci saranno una marea di tesla io sarò lì tutto il giorno quindi magari ci vediamo e ci conosciamo di persona non sarebbe male questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao